Ciao a tutti amici del centro di Rinvago, ben ritrovati. Proseguiamo con la seconda parte del racconto di gennaio e il titolo vi ricordo che è Il tamburino sardo. Buon ascolto. Sperava già che fosse riuscito a fuggire inosservato quando 5 o 6 piccoli nuvoli di polvere che si sollevarono da terra davanti e dietro al ragazzo l'avvertirono che era stato visto dagli austriaci. I quali gli tiravano addosso dalla sommità dell'altura quei piccoli nuvoli. Era una terra buttata in aria dalle palle, ma il tamburino continuava a correre a rompicollo. A un tratto stramazzò, ucciso, rugì il capitano, addentrandosi il pugno. Ma non aveva anche detto la parola che vide il tamburino rialzarsi. Ah, una caduta soltanto, disse tra sé e respirò. Il tamburino, infatti, riprese a correre di tutta forza, ma zoppicava. Un torcipiede, pensò il capitano. Qualche nuvoletta di polvere si levò ancora qua e là intorno al ragazzo, ma sempre più lontano. Egli era in salvo. Il capitano mise un'esclamazione di trionfo, ma seguitò ad accompagnarlo con gli occhi, trepidando. Perché era un affar di minuti, se non arrivava laggiù al più presto possibile, col biglietto che chiedeva immediato soccorso, o tutti i suoi soldati cadevano uccisi, o egli doveva arrendersi e darsi prigioniero con loro. Il ragazzo correva rapido un tratto, poi rallentava il passo zoppicando, poi ripigliava la corsa, ma sempre più affaticato, e ogni tanto incespicava e si soffermava. «Lo ha forse colto una palla di striscio?», pensò il capitano. E notava tutti i suoi movimenti, fremendo, e lo eccitava, gli parlava, come se quegli avesse potuto sentirlo. Misurava senza posa, con l'occhio ardente, lo spazio interposto fra il ragazzo fuggente e quel luccichio d'armi che vedeva laggiù nella pianura, in mezzo ai campi di frumento dorati dal sole. E intanto sentiva i sibili e il fracasso delle palle nella stanza di sotto, le gride imperiose, rabbiose degli ufficiali e dei sergenti, i lamenti acuti dei feriti, il rovinio dei mobili e dei calcinacci. «Sù, su, coraggio!», gridava, seguitando con lo sguardo il tamburino lontano. «Avanti, corri!», si ferma, maledetto, «ah, riprende la corsa!». Un ufficiale venne a dirgli, ansando che i nemici, senza interrompere il fuoco, sventolavano un panno bianco per intimare la risa. «Non si risponda!», egli gridò, senza staccare lo sguardo dal ragazzo, che era già nel piano, ma che più non correva, e parea che si trascinasse stentatamente. «Ma va, corri!», diceva il capitano, stringendo i denti e i pugni. «Ammazzati, muori, scellerato, ma va!». Poi gettò un'orribile imprecazione. «Ah, l'infame poltrone!» «Se è seduto!». Il ragazzo, infatti, di cui fino allora egli aveva visto sporgere il capo al di sopra di un campo di frumento, era scomparso, come se fosse caduto. Ma dopo un momento la sua testa venne fuori da capo. Infine si perdette dietro le siepi e il capitano non lo vide più. Allora discese impetuosamente. Le palle tempestavano. Le stanze erano in gombra di feriti, alcuni dei quali giravano su se stessi come ebriachi. Aggrappandosi ai mobili, le pareti e il pavimento erano chiazzati di sangue. Dei cadaveri giacevano attraverso le porte. Il luogotenente aveva il braccio destro spezzato da una palla. Il fumo e il polverio avvolgevano ogni cosa. «Coraggio!» gridò il capitano. «Fermi al posto! Arriva in soccorsi!» Ancora un po' di coraggio. Gli austriaci si erano avvicinati ancora. Si vedevano giù, tra il fumo e i loro visi stravolti. Si sentivano tra loro lo strepitio delle fucilate, le loro grida selvagge, che insultavano, intimavano la resa, minacciavano l'eccidio. Qualche soldato impaurito si ritraeva dalle finestre. I sergenti lo ricacciavano avanti, ma il fuoco della difesa infiacchiva. Lo scoraggiamento appariva su tutti i visi. Non era più possibile protrarre la resistenza. A un dato momento i colpi degli austriaci rallentarono e una voce tonante gridò prima in tedesco, poi in italiano. «Arrendetevi!» «No!» urlò il capitano dalla finestra e il fuoco ricominciò più fitto e più rabbioso dalle due parti. Altri soldati caddero. Già più di una finestra era senza difensori. Il momento fatale era imminente. Il capitano gridava con voce smuzzicata tra i denti. «Non vengono!» Non vengono!» E correva intorno furioso, torcendo la sciabola con la mano convulsa, risoluto a morire. Quando un sergente, scendendo dalla soffitta, gettò un grido acutissimo. «Arrivano!» Ripetè con un grido di gioia al capitano. E a quel grido tutti, sani, feriti, sergenti, ufficiali, si lanciarono alle finestre e la resistenza inferocia un'altra volta. Di lì a pochi momenti si notò come un'incertezza e un principio di disordine fra i nemici. Subito, in furia, il capitano radunò un drappello nella stanza terreno, per fare impeto fuori, con le baionette inastate, poi rivolto di sopra. Era appena arrivato, che sentirono uno scalpitio precipitoso, accompagnato da un urrà formidabile, e videro dalle finestre venire innanzi, tra il fumo, i cappelli e i due punte dei carabinieri italiani, uno squadrone lanciato ventre a terra e un balenio fulmineo di lame mulinate per aria, calate sui capi, sulle spalle, sui dorsi. Allora il drappello irruppe a baionette basse fuor dalla porta. I nemici vacillarono, si scompigliarono, diedero di volta, il terreno rimase sgombro, la casa fu libera, e poco dopo due battaglioni di fanteria italiana e due cannoni occupavano l'altura. Il capitano, coi soldati che gli rimanevano, si ricongiunse al suo reggimento, combattì ancora e fu leggermente ferito alla mano sinistra da una palla rimbalzante, nell'ultimo assalto alla baionetta. La giornata finì con la vittoria dei nostri. Ecco amici, abbiamo finito anche la seconda parte e ci rivediamo presto per la terza. Ciao!